Ciao Lega Nerd, siamo al mercato del Carmine di Lucca per la mostra dedicata agli 85 anni di Paperino, come si vede qui alle mie spalle. Questo è il francobollo più grande del mondo, disegnato da Giorgio Cavazzano in persona, in occasione proprio degli 85 anni del papero più amato del mondo. Duffy Duck se ne farà una ragione. Qui a Lucca Comics & Games è stata appunto allestita una mostra, come vedete qui alle mie spalle, con tantissimi memorabilia, fumetti stampati in Italia, si ripercorre la storia del papero e si può anche fare una experience virtuale letteralmente entrando dentro la casa di Paperino. Se non avete potuto venire a Lucca per il Lucca Comics & Games, ecco qua vi facciamo vedere noi cosa c'era a questa mostra. N-E-R-T-L-A Period. Musica 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 Musica